... Piccola, eccoti qua. Cominciavo ad essere un po' preoccupato per te. Hai fatto una chiacchieratina con i poliziotti? Sono andata a scoprire se Ipkis aveva parlato. Oh, dimenticavo, tu e Stanley, siete diventati intimi, giusto? Magari gli hai dato tu una mano per il colpo in banca, eh? Questa è una cosa ridicola. Ah, dici? Guarda che ho trovato nella sua macchina. Così partivi senza di me, piccola. No, davvero? No? Ragazzi, dovete... ...prenderle un vestito carino da mettere, intesi? Perché andremo ad una festa stasera. E ci divertiremo come matti, dico bene? Sì. Sì. Via, sparisci. Fai un salto! Vieni su! Vieni su! Vieni su! Grazie a tutti.